FUORI POSIIONI FUORI DA TUTTO Ragazzi, ha ragione lui Vediamo come Chieti costruirà questa azione Monaldi si infila per Ancelotti Che schiaccia Siamo lontani da Canestro 5 secondi a San Non si può permettere una schiacciata In questo momento può sfruttare La caduta del difensore avversario Rimbalzo di Powell Della schiacciata imperiale di Marshall Powell Gran palla di Di Bella Che manda a schiacciare i Grubali Con Green che vada a Bonessio Prova a giocare per la schiacciata al volo Alla hoop da parte di Richard Galloway E va fino in fondo e schiaccia Ma sbagliato Altro rimbalzo di Holloway Che lancia in campo aperto Single Derry Vai a chiodare Sulla testa di Milani Saluto di Venuto Per recupero Galloway Autostrada Schiaccia Due mani Gavir Pietro Lurini Da tre Nooo! Nooo! Nooo!